si è costretti a imparare sempre ogni giorno delle cose e oggi ho imparato, io non lo sapevo per niente, che a livello europeo, anche se era intuibile, in effetti ci potevo arrivare, a livello europeo è pronto un provvedimento per ristrutturare le case, e sarà obbligatorio, le classi energetiche più dispendiose, quelle più basse, F e G, addirittura dovranno essere eliminate, bisognerà passare direttamente alle classi più risparmiose, quindi classe energetica E entro il gennaio 2030, nel 2033 sarà necessario arrivare alla classe D, nella prima bozza del provvedimento addirittura c'era l'impedimento a poter affittare o vendere case di classe energetica molto bassa, quindi F e G, e pensare che secondo i dati dell'Enea il 35% delle abitazioni in Italia sono di classe G, quindi quella che consuma più energia, un dato addirittura sottostimato perché, diciamo così, la classe energetica viene comunicata solamente se vendi o affitti o ristrutturi la casa, quindi probabilmente è più del 35%, pensate a quante persone, io tra l'altro manco so esattamente che classe energetica ho nella casa, condivido un mio dubbio, quindi di fatto quella stessa Europa che aveva detto che il super bonus era una cosa fighissima, ci sta dicendo dovete cambiare le vostre case e insomma sarebbe il caso di farlo con il super bonus, mentre in Italia il super bonus viene sabotato. Allora ne parliamo con Roberto Cervellini, direttore generale di Class Action nazionale dell'edilizia, Ciao Roberto, buonasera Stefano, buonasera a tutti, Norbert Hoth, co-fondatore di Class Action nazionale dell'edilizia, ciao, buonasera, sono stato troppo lungo, si è capito quello che ho detto? Sì, pare di sì, pare di sì, come se avessimo scoperto l'acqua calda. Eccolo qua, c'è subito la... Sì, perché hai mai sentito parlare del piano Fit for 55? Certo. Ok, perfetto, quindi è da qualche anno che c'è, no? Certo, però non c'era niente di obbligatorio, perché adesso sta diventando obbligatorio. No, 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 anche lì c'erano degli obblighi, c'erano determinati punti e uno tra questi era la riqualificazione energetica, quindi che significa che tutti i fabbricati devono comunque raggiungere degli obiettivi prefissati al 2030, al 2033, al 2037, eccetera, eccetera. Oggi la stanno inasprendo questa cosa, stanno dicendo, ok, dal 13 marzo la direttiva è questa. Dovete raggiungere tutte le classi energetiche G, devono salire in E, entro il 2030, poi al 2033 devono raggiungere la D, e fino ad arrivare al 2050 che devono essere emissioni zero, quindi autosufficienti. Tutto quello che noi abbiamo fatto in parte e stavamo cercando di fare è proprio con il superbonus, tanto è vero che è una cosa ridicola inseguire la classe, pensa tu vai a fare i lavori, dici ok, raggiungo la E, benissimo. Poi una volta che hai finito il lavoro dici, oh, perbacco, adesso arriva il 2033, devo aumentare un'altra classe, quindi ricomincia a fare un altro lavoro perché devi migliorare la classe. Che cosa fai? Affronti di petto la spesa, ok, e per portarla alla classe energetica migliore, così tu stai a posto fino al 2050. Tutti i cantieri che noi abbiamo fatto, che li abbiamo portati in A4, non hanno più problemi, sono a consumo zero, sono ad emissioni zero, sono autosufficienti e stanno a posto fino al 2050. E questo era stata pensata col DL34 del 2020. Oggi scoprono l'acqua calda. Che cosa fa la politica? Mi rubo un altro minuto. Che cosa fa la politica? Non dice ok, cavolo, allora ci dobbiamo organizzare perché dobbiamo assolutamente risolvere questo problema, e andare incontro a questa direttiva Unione Europea dei 27 Paesi membri, firmati e sottoscritti. No, che cosa dice? Noi dobbiamo mandare i nostri ministri, la nostra Presidente del Consiglio, a discutere perché dobbiamo dire che noi non ci stiamo, dobbiamo spostare questa misura. Poi dici che gli italiani, ma com'è possibile? Ma o ti adegui? O no, gli altri Paesi che fanno allora? Vanno tutti a protestare? Sì, anche perché c'è il discorso del caro bollette che con una casa a emissioni zero non ci sarebbe più. Non hanno problemi di bollette, i nostri clienti non hanno più problemi di bollette, non le pagano. Cioè hanno la produzione con i pannelli fotovoltaici, il solare termico e le pompe di calore, ormai sono autosufficienti. Il contatore del gas l'hanno completamente smontato e hanno i bonifici in entrata all'attivo che gli fa il GSE. Capito? Allora, questo è molto chiaro. Allora, Norbert, tu che insomma sei il più incazzoso, diciamo così, di Cande, dai, diciamo, class action nazionale dell'edilizia, puoi riassumere qual è la situazione attuale? Cioè, allora, spieghiamo come state cercando di uscire da una situazione di oggettiva difficoltà. Ma allora, partiamo dal fatto che purtroppo sarò ripetitivo, ma questa volta in particolare mi voglio riferire a Fratelli d'Italia e fare un appello anche all'onorevole De Bertoldi che è ben consapevole di tutta la situazione legata al blocco dei crediti fiscali. Noi pensiamo di parlare e discutere del Fit for 55 e di una transizione ecologica, ma ci dovrebbero spiegare con quali aziende noi potremmo farlo, visto che i dati in nostro possesso sono 100 miliardi bloccati prevalentemente ad aziende, ma non dimentichiamoci i 55-56 della pubblica amministrazione che deve corrispondere, che non sta corrispondendo ad altre aziende, sempre nell'edilizia, per i lavori pubblici. Siamo arrivati a una cifra stratosferica di emergenza totale. Perché cosa succede? Se questa follia va avanti ancora per qualche mese, perché loro giocano allo stroncare il super bonus, la circolazione dei crediti fiscali, tanto prima o poi si stuferanno, non stanno capendo che non è che la gente si stuferà. Ci saranno i più grossi fallimenti collettivi di aziende mai visti nella storia della nostra Repubblica. E quindi, poi dopo, sarà ancora più difficile rispettare questa transizione energetica che l'Europa ci impone. Anche perché, a livello europeo, tra le varie cose che raccontano, tra Eurostat, che tutte invenzioni, a nostro avviso, c'è il discorso che la Commissione europea consiglia proprio il super bonus da applicare nel piano Fit for 55, perché hanno già verificato che lo strumento per loro è buono. Loro non sono nemmeno a conoscenza che il super bonus non esiste più, perché, a tutti gli effetti, il super bonus non esiste più. Ma fra quattro mesi, già abbiamo perso diverse aziende. Oggi, voglio dirlo, mi dispiace, noi piangiamo un coordinatore nazionale di Class Action. Ha avuto un infarto ieri. Oh, mannaggia. Gian Piero Ferradini. Noi l'abbiamo conosciuto personalmente. Io l'ho inserito in Class Action e sapevo esattamente della sua ipertensione che aveva continuamente perché lui lavorava, si occupava di fare da intermediario finanziario per le aziende e quindi le aziende lo stressavano perché non riuscivano a cedere i crediti e lui si trovava in questa situazione che oltre a non incassare era mortificato anche verso alcune aziende. Questo è il nostro futuro adesso. Queste disgrazie, purtroppo, saranno il futuro se non cambiano in fretta le cose. Quindi Fratelli d'Italia prende i nostri emendamenti che li hanno visti, li hanno valutati, li presentino come ci avevano promesso, lo mandano a votazione che glielo vota tutto il Parlamento, unificato perché è un emendamento buono e diano un po' di speranza e ossigeno alle persone. Questa è la cosa più importante in questo momento. Allora, esattamente come si potrebbe procedere? Per riprendere il sentiero virtuoso che comunque aveva generato il 2% di PIL, che aveva riavviato i cantieri, che aveva reso frizzanti i condomini. Tra l'altro c'è comunque un termine, nel mio condominio per esempio hanno deciso delle cose perché c'è ancora fino a febbraio, o sbaglio? Bisogna decidere... No, la data questa qui era per presentare la CILAS e poi c'era sempre entro il 18 però bisognava presentare l'assemblea di condominio e quindi ci sono questi paletti assurdi. Poi si parla anche di retroattività e il ministro Giorgetti dice che non è una misura retroattiva. Il 110 era portato al 3012-2023, l'hai ridotto al 90%, se non è retroattiva questa, io non lo so che intende per retroattività. Allora, voi avete presentato delle proposte, come sono organizzate queste proposte? Allora, le nostre proposte principali d'urgenza, le prime, sono prettamente di carattere tecnico. Abbiamo chiesto una checklist unificata all'Agenzia delle Entrate, quindi l'Agenzia delle Entrate dovrà emettere una checklist sulla quale tutte le banche si devono allineare e presentare quelle documentazioni. e così non ci sarà più la giungla delle banche, dell'advisor che lavorano per le banche per preparare lo sconto dei crediti, con 26 documenti, 35, 38, 40 video e tutte queste scemenze, ma abbiamo chiesto che l'Agenzia delle Entrate imponga o definisca comunque 7, 8, 10, 20, 30 documenti quelli che dice l'Agenzia delle Entrate. Così uno si allinea e fa quelli e già almeno le banche si allineano a quelle e non hanno più paura perché dico almeno i documenti sono quelli e quelli devono essere. Abbiamo chiesto che venisse riaperta la partecipata dello Stato, che è completamente dello Stato, Medio Credito Centrale, Banca Medio Credito Centrale, per l'acquisizione dei crediti in prima istanza. Ciò significa che acquisisce lei tutti questi crediti e poi a sua volta ci fa quello che vuole, visto che è concesso nella, diciamo, multicedibilità, tra virgolette, insomma, perché ricordiamo che oggi, ora, anche con l'entrata in vigore del decreto quadro, le cedibità sono 5, la prima verso tutti, poi ce ne sono 3 passaggi verso istituti bancari, finanziari, o comunque regolarmente riconosciuti, e l'ultima verso i propri correntisti. Quindi poi a sua volta può fare questo. Visto che Medio Credito Centrale ha una capienza infinita, può rigirarle anche alle altre partecipate dello Stato, come può essere, non so, ferrovie, possono essere l'assicurazione, abbiamo 900 miliardi di fatturato da parte di queste aziende, quindi penso che capienza fiscale ce ne sia per poter girare questi crediti. E l'altra cosa... Spieghiamo una cosa a chi non è tecnico, praticamente questi crediti funzionavano, nel migliore dei casi, quando era... Meccanismo normale, originario. Originario, cioè che voi cedevate questi crediti fiscali e ottenevate del denaro contante. Sì, ottenevamo la misura del 110, al contrario di quello che ci vogliono far chiedere, credere i politici oggi, che costa troppo come misura, nasce proprio come 110 perché? Perché il 100% è l'importo che viene erogato all'impresa come corrispettivo dell'appalto, e il 10% sono gli oneri bancari, ok? Poi questa cosa, purtroppo, con la grande manovra strategica dell'ex ministro, primo ministro Draghi, ha bloccato le partecipate dello Stato per dare quindi via libera alle banche di improvvisare sul mercato e quindi siamo arrivati oggi ad avere aziende col cappio al collo a vendere, a svendere i propri crediti anche al 50%. Allora, una cosa importante è che quando ha cominciato a picconare il super bonus Mario Draghi ha parlato di truffe e di mancanza di concorrenza. In realtà queste due sono accuse fasulle, perché per quanto riguarda le truffe c'è una percentuale veramente residuale, è complicatissimo truffare perché ci sono un sacco di controlli, meccanismi di controllo, e per quanto riguarda la mancanza di concorrenza in realtà bisogna adeguarsi ad un prezzario, giusto? Esattamente. Allora, tutte e due le cose gli sono andate male, perché le truffe purtroppo nel super bonus erano molto difficili, infatti i numeri sono stati molto molto bassi, secondo me lui nella sua testa pensava ma ne troveremo, ne troveremo, ma alla fine c'era ben poco da trovare con tutti i certificati che servivano per generare un credito e con tutti i massimali di spesa che bloccavano certi tipi di imbrogli e quindi l'aglia è andata male, non ne parlano nemmeno più di truffe sul super bonus, quindi si sono messi tutto il cuore in pace. Poi l'altra domanda qual era? Quella della macchiazza di concorrenza, cioè in realtà anche quello... Guarda, allora... Perché non devi contrattare sul prezzo... Allora, benissimo, e allora io dico questo, allora io dico questo. Allora cosa siete andati a firmare il Green Deal con l'Europa? Perché se voi firmate gli impegni per arrivare ad efficientamento zero degli edifici entro il 2050 con il primo scaglione al 2030, che questo l'hanno firmato nel 2018, allora andavano in Europa e dicevano No, noi non lo firmiamo perché sennò non ci sarà possibilità di concorrenza, perché il nostro paese, purtroppo, che viene da 15 anni di crisi, ha dei soggetti privati, lavoratori con stipendi troppo bassi, che non possono sostenere una transizione ecologica che è molto costosa. No, loro hanno firmato, quindi per me va concepito come un grandissimo lavoro pubblico. Se l'avessero fatto con misura debito, quindi vuol dire con manovre finanziarie a debito, era una somma talmente grande che non avrebbero potuto metterla in piedi. Per questo hanno provato lo strumento del super bonus, che magicamente, perché diciamocela tutta, il primo anno di attuazione, diciamo il 2021 che ha preso piede, è stato lasciato libero perché il governo, e questo ce l'ha detto la Presidente della Decima Attività Commissione Produttive, Nardi, hanno detto noi lo lasciamo correre un anno. Poi vediamo, i risultati sono stati stupefacenti. Si sono ritrovati cose che non credevano. E quindi ha funzionato, è stato un rischio, possiamo dircelo, ha funzionato, e quando ha funzionato l'hanno stroncato. Perché? Ma devono spiegare, devono veramente spiegare, hanno dieci relazioni nazionali, internazionali contro. La Commissione Europea che è un organo che controlla trimestralmente, perché Enea comunica i dati mese per mese? Perché la Commissione Europea ha imposto il monitoraggio della transizione ecologica. Quindi dai dati Enea obbligatori, loro riescono a risalire come sta andando avanti il nostro percorso di transizione ecologica. Da lì, da questi dati Enea, certe società private come Nonisma, hanno redato delle relazioni in base ai loro calcoli di quanto tornasse indietro per lo Stato. È stato dimostrato che è una misura con un ottimo effetto moltiplicatore, perché Nonisma, non ci dimentichiamo, che dice io arrivo fino all'indotto primario, poi non riesco più a quantificare l'indotto secondario, ma c'è un mondo nell'indotto secondario che se venisse provato a calcolare ti porterebbe questa misura probabilmente a zero, a costo zero. La LUIS addirittura ha detto che in dieci anni porta un guadagno allo Stato. E questo cosa vuol dire? Che è una misura che non costa nulla, che però genera PIL. La generazione del PIL ti permette di fare finanziarie più generose che uno Stato e un governo serio userebbero da reinvestire nella sanità. da investire in luoghi dove non possono accadere frane che distruggono abitazioni e muoiono delle persone, perché noi sta cadendo tutto a pezzi, l'Italia a forza di non fare più lavori infrastrutturali, questo farebbe uno Stato serio. Invece no, questo è chiaramente uno stroncamento imposto dai mercati finanziari, dove ormai un governo vale l'altro perché tra virgolette obbediscono alle regole che viene impartito da qualcun altro. Questa è la verità. Questa è la verità. Però è strano questa colgo sembra una contraddizione, cioè il superbonus è piaciuto in Europa però poi non è piaciuto. Cioè è piaciuto o non è piaciuto? Sì, è piaciuto. In Europa la Commissione europea l'ha valutata gli ha dato 4 punti su 5 l'unico punto che non hanno preso è perché dovevano metterlo a più lungo termine renderlo strutturale per i continui cambi di modifiche normative per quello non ha preso 5 stelle su 5 il governo italiano il MEF anche a un certo punto hanno detto eh ma deve esprimersi l'Ocse l'Ocse a settembre perché tutti si aspettavano che l'Ocse si esprime con un parere negativo l'Ocse si è espresso con un parere positivo anche lei quindi la parte europea è inutile che la tirano fuori perché non sta così se poi mi dicono Eurostat tramite un italiano in Eurostat non un francese tedesco o svedese ma un italiano sta cercando di convincere altri di Eurostat a sabotare l'accessione dei crediti italiana questo è un altro discorso ma tanto non ce la faranno perché per cambiare una cosa del genere per rendere il debito e l'accessione del credito comunque sempre pagabile anche senza interventi dello Stato dovrebbero avere l'approvazione degli altri 27 paesi ma 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 è una cosa improponibile e loro stanno usando questa scusa di Eurostat per non ripristinare la multicellibilità illimitata per non far sbloccare i crediti e perché Molinari sa perché sa perché perché si fanno arrivare questi soldi gli italiani in 4 secondi li rimettono dentro nei cantieri tra chi deve finire e chi non deve finire e verrebbero generati 200 miliardi e a quel punto non lo fermi più allora finora allora finora era una scelta diciamo personale del condominio quello dell'efficientamento energetico anche spinto dai prezzi esorbitanti di gas ed elettricità si poteva operare come ricordava appunto Roberto Cervellini si poteva operare praticamente a costo a costo zero e avere poi un prodotto che di fatto annientava le bollette ora era una scelta quindi intelligente che veniva finanziata dal super bonus ora si è messa una diga molte aziende come ricordava Norbert stanno stanno fallendo ma attenzione perché questo tipo di lavori che finora erano comunque scelte personali collettive ma comunque libere diventeranno obbligatorie questa è la cosa incredibile e se non ci sarà uno strumento come il super bonus ce lo dovremo pagare da soli cioè questa è la cosa tanti soldi in realtà sono tanti soldi ma non li farà nessuno ma chi li farà la pensionata da 700 euro al mese se metti a fare 100 mila euro nel proprio appartamento cioè non è così non è così noi siamo il paese più tassato al mondo abbiamo tanta moneta fiscale potrebbe essere riempiegata ma io aggiungo quello che diceva Norbert prima se tre indizi fanno una prova qui abbiamo sei indizi che fanno una condanna tutto quello impostato da Draghi non ultime la denuncia la chiamo denuncia non sono dichiarazioni quelli dell'ex ministro Patuanelli che le sentiremo tra pochissimo ecco magari se le sentiamo così per chi non l'ha sentita si rende conto dove si è andati a parare cioè per me si smonta tutto nel senso non dobbiamo neanche più parlare del fatto che il super bonus possa essere positivo o meno favorevole o meno cioè è stato impiantato un sistema un programma volto a demolire questa misura basta lo dichiara l'ex ministro che stava seduto sentiamolo subito se dalla regia sono d'accordo tratto da rete 3 se non ricordo male si va bene andiamo andiamo il 110 aveva dei massimali dei massimali per singola lavorazione dei prezzieri di riferimento una certificazione della classe energetica e una certificazione fiscale sul credito le truffe sul 110 sono dell'ordine dello 0,9% non ci sono state le truffe sul 110% e i prezzi ma perché loro lo diceva Draghi lo diceva il suo ministro dell'economia ma perché il vero problema è l'accezibilità del credito è che l'Europa si è resa conto che abbiamo sostanzialmente creato una moneta alternativa questo è l'elemento centrale e quando è arrivato Draghi adesso sto dicendo una cosa che verrà ripresa probabilmente non soltanto a livello locale e quando è arrivato Draghi gli è stato detto guarda che sta cosa deve mettere un freno punto questa è la verità la criptovaluta dell'Italia l'accedibilità extra filiera erga omnes con un numero di cessioni infinite di fatto ha creato una moneta alternativa e questo all'Europa non piaceva e quindi si è intervenuti con il più figlio europeista del Draghi cioè Draghi dicendo guarda che sta quella di bloccarla è sufficiente questo? ricordiamo ai più distratti che Stefano Patuonelli è stato ministro delle politiche agricole alimentari e forestali proprio nel nel governo Draghi e anche nel Conte 2 siccome stava parlando di Draghi stavano allo stesso tavolo quindi penso che questa ripeto non è una dichiarazione questa è una denuncia cioè questa è una denuncia parte informata sui fatti ma di che cosa vogliamo parlare? ma di che cosa vogliamo parlare? la cosa che io non capisco è che adesso c'è una maggioranza che era contro allora in cui la forza principale cerchiamo di essere precisi in cui la forza principale cioè Fratelli d'Italia era contro il governo Draghi e in cui diciamo uno degli alleati la Lega era dentro il governo Draghi ma era estremamente critico nei confronti dell'operato del governo stesso allora io quello che vorrei capire è perché si prosegue su una strada che sembra uguale a quella del del governo Draghi insomma vabbè questa è la domanda che vi faccio poi rispondete tra poco e c'è anche questa osservazione al 3775 104 500 ma che stupefacente stupefacente in senso come funzionava in maniera stupefacente il super bonus senza Ise è stato fatto nel primo anno soprattutto da chi in realtà non ne aveva bisogno avrebbe potuto ristrutturare casa con i propri soldi posso rispondere posso rispondere allora la misura bisogna metterci in testa sia noi cittadini che la politica che la misura non nasce per fare il favore al cittadino italiano ok la misura nasce perché la struttura fabbricato non deve più emettere CO2 e deve risparmiare quindi si va a prendere il fabbricato dentro ci stanno imprenditori ricconi poveracci non gli interessa nulla non gli interessa tutto per questo si parlava anche di incapienza fiscale cioè i lavori potevano farlo anche gli incapienti perché la loro differenza sulla capienza fiscale veniva poi ceduta a chi a chi ne aveva che poteva essere l'impresa o che poteva essere l'istituto di credito che a sua volta l'andava a compensare con le tasse e via dicendo quindi il super bonus sisma bonus ok perché siamo un paese sismico non ce lo dimentichiamo siamo un paese vecchio il 70% dei fabbricati è anti anni 70 siamo vecchi dobbiamo recuperare riqualificare l'azienda il mondo sta andando verso il collasso ecologico se lo vogliamo capire bene se no no continuiamo a giocare con da zona che non funziona la linea e quindi facciamo il consiglio dei ministri perché da zona non funziona la linea oppure facciamo il consiglio dei ministri perché non c'è la neve sull'appennino e poi abbiamo 100 miliardi sui cassetti fiscali d'aziende che stanno chiudendo e non gliene frega niente allora è chiaro che c'è un piano a nascondere tutto questo non è che siamo cretini non siamo cretini allora gli imprenditori in primis i professionisti poi e i cittadini piano piano ci stanno arrivando